Una partesana dell'hard disk Oh! Monteflor! Oh no, aspetta, 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 vedi, vedi Vedi, vedi, vedi Oh! E' uscito il video Aspetta, aspetta, aspetta Sotto non aveva un lettore Si, c'era... Doppio gavetto Magari così ce la fa Simo, fai il video No! Registra Hai già sfondato quel mozzolino, fermo! Ancora si può smontare Oh! Non mi disco E roviniamo questa parte Così lo puoi vendere nuovo Si! Com'è nuovo? Non penso che andrà Un po' troppo addirittura No, non va Troppo duro sta No, non va proprio Lascia stare Eccolo Eccolo! 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 Colamo! Molta colla... Molta colla Molta colla... Molta colla... Molta colla, moti colla! Porque la colla... Detta no? eccolo quella parte quella parte questo è quanto pesa più o meno Norton si a confronto questa cosa cosa lo faceva? lo solitigava? ma quello cosa fa poi? un doppio impulso in maniera che fa il corrente vedo funzioni un doppio cavo qua c'è un circuito, una lente tiene la parte difficile della disco è fare questa cosa io praticamente ho su un DVD dura faccio il podine della parteggiana sai? oddio no 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 aspetta 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 nooo ci facciamo male cioè non lo sto dicendo guarda tu tienilo lascia 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 non te non parte no non parte sì perfetto la parte Grazie.